Comprare una casa o trovarne una in affitto è ormai un'impresa titanica anche nel territorio piceno, ma qualcosa comincia a muoversi dai palazzi del potere, soprattutto a favore delle giovani coppie. La provincia di Ascoli infatti proprio oggi ha approvato il nuovo piano per l'edilizia residenziale pubblica per il triennio 2006-2008 che ripartisce le risorse già assegnate dalla regione. Ad Ascoli andranno 6 milioni 670 mila euro, mentre alla nuova provincia di Termo 4 milioni 800 mila euro. Il piano è stato presentato dall'assessore all'edilizia residenziale pubblica Antonio Canzian e distribuirà le somme in tre comparti di intervento. Il 50% andrà all'edilizia sovvenzionata, alloggi popolari, il 15% all'edilizia agevolata, alloggi a canone moderato e il rimanente 35% per i buoni casa, a sostegno delle giovani coppie. Per quanto riguarda gli alloggi popolari, con le somme stanziate si andranno a realizzare 27 residenze nella provincia di Ascoli e 19 in quella di Fermo. Gli aiuti per l'edilizia agevolata serviranno invece all'Erape e alle cooperative di imprese edilizie per realizzare dai 17 ai 58 alloggi nell'Ascolano e dai 13 ai 42 nel Fermano, tutte case in cui, a seconda del contratto di locazione, il canone d'affitto sarà più moderato. Sia l'edilizia sovvenzionata che quella agevolata devono trovare localizzazione nelle zone definite ad alta tensione abitativa, che la regione ha individuato in quattro comuni per la provincia di Ascoli, Ascoli, San Benedetto, Monteprandone e Grotta Mare e in sei in quella di Fermo. La grande novità è poi rappresentata dai buoni casa, si tratta di contributi destinati alle giovani coppie, sposate da non più di due anni e di età inferiore ai 37, che vogliano acquistare una casa. Per loro la provincia assegnerà delle somme che variano dai 10.000 ai 30.000 euro in base alla fascia del reddito Isee, un'occasione per aiutare i giovani e per ripopolare i centri storici dei paesini del Piceno, dove le condizioni di acquisto sono più favorevoli. Il 42% dei buoni casa sarà infatti riservato ai piccoli paesi delle aree montane e collinari. Le domande per i buoni andranno presentate nel comune presso cui si intende acquistare l'alloggio a partire dal 7 gennaio 2008.